Allora, adesso pianchiamo questi, me li metti nella zona dell'ombra che non si vuole? Sono le pietre scoste della Lidl Siamo pronti? No, i semi sono fatti Fai vedere i semi Eccoli qua Aspetta Mi metto una manzata Tom, mi sei il vasetto Buono E poi io vado a bagnarli Ciao Ciao